I luoghi degli scrittori veneti. Pensate a Ippolito Nievo, Emilio Salgari, Antonio Fogazzaro, Dino Buzzati, Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello, Guido Pioene, Mario Rigoni Stern, Goffredo Parise. Sono molto numerosi i grandi scrittori del Veneto e ai maestri del passato continuano ad aggiungersi sempre nuovi attori che conquistano le classifiche e si affermano nei premi letterari nazionali. Si può legittimamente sostenere che il PIL letterario della regione è ancora più significativo di quello economico che pure negli ultimi decenni la spinta ai vertici del paese. Eppure nonostante ciò è risaputo che il Veneto non si sa raccontare e anche per contribuire a colmare questa lacuna è nata questa guida che affida proprio ad alcuni grandi testimonial di ieri e di oggi il compito di raccontare la regione a partire dai loro luoghi del cuore. Una guida che contiene molti altri libri e interagisce anche con i social media e si propone come uno strumento per leggere il Veneto degli ultimi 150 anni, interpretandone gli umori profondi, ma anche di promuovere i territori, soprattutto quelli esclusi dei flussi turistici di massa. Sono 27, dal Polito Nievo a Tiziano Scarpa, gli scrittori presentati per esteso, ma ad essi si aggiungono citazioni e luoghi relativi a centinaia di altri. Oltre 70 sono le mete descritte diffusamente, oltre 200 le fotografie e oltre 80 le cartine originali. L'ambizione che ci è mossi è far camminare chi legge e far leggere chi cammina.